Il mattatore della Juventus è ancora una volta lui, Giacomo Raspadori, che lo scorso anno, con una volée di sinistro nel finale allo stadio, ma aveva ipotecato in maniera quasi definitiva lo scudetto azzurro. La situazione rispetto alla stagione passata è totalmente differente, ma il gol dell'attaccante classe 2000 di domenica sera resta comunque molto importante per tenere viva l'ambizione europea del Napoli. L'ex Sassuolo è stato intervistato nel post-gara ai microfoni di Sky Sport. E' stata una partita fondamentale, stiamo migliorando di giorno in giorno e costruendo qualcosa di importante, è il risultato del lavoro fatto con il mister. Siamo contenti perché anche quando siamo andati in difficoltà siamo rimasti concentrati e ordinati. Un'inversione di rotta importante per il Napoli con Francesco Calzoni in panchina. Siamo cambiati dal punto di vista mentale, eravamo condizionati da certi momenti negativi, ora che le cose vanno meglio è più facile, continua Raspadori. Il mister ha provato a farci ripartire con i suoi concetti e a farci migliorare nelle prestazioni. Questo però non significa che sia finito il percorso, perché siamo indietro in classifica e dunque dobbiamo fare una serie di risultati importanti. Una delle caratteristiche di Raspadori più apprezzata dagli allenatori è la sua duttilità tattica, che lo rende idoneo a ricoprire tutti i ruoli dell'attacco. Il mio ruolo preferito? Sicuramente mi sento più a mio agio nella zona centrale del campo, ma questo non significa che io non possa partire dall'esterno per accentrarmi e scambiare con i compagni. Penso di poter fare tutti i ruoli in avanti, magari con caratteristiche differenti quando parto largo sulla fascia. Penso di poter fare tutti i ruoli in classifica.